Virginio Capardi è il nuovo segretario della Lega Umbria. Già vice sindaco di Nocera Umbra e deputato alla Camera, è stato eletto all'unanimità a Terni durante il congresso regionale del partito, presieduto dal senatore Paolo Arrigoni. Emozionato, nonostante i suoi dieci anni nel partito, Capardi ha ricordato la storia della Lega in Umbria, fatta, ha detto, di tanti ingiustificati pregiudizi e alcuni momenti immemorabili fino a quando non è arrivato il nuovo corso, quello di Matteo Salvini, e tutto è cambiato, diventando un'ascesa inarrestabile, una forza, una dirompenza. Questo congresso, così tanta gente, non è per me un traguardo ma un punto di partenza. Il nuovo segretario della Lega ha quindi fatto riferimento alla presidente della regione Catiuscia Marini. L'Umbria, cara governatrice, ha detto, non è della Lega, come lei ha asserito all'indomani delle elezioni politiche. L'Umbria è degli Umbri. Noi non vogliamo padroni ma solo un progetto di libertà.